ciao ragazzi benvenuti dal vostro amico 7decoppe allora buon inizio settimana è appena arrivata la notizia di un'offerta ufficiale per a war attenzione perché a war non va ad escludere frattesi si parla di 15 milioni l'offerta e stanno lavorando vediamo un po io però che ho sempre detto che sa war ci stanno anche altre squadre vedremo cosa succederà adesso mi è arrivata questa notizia e io ve l'ho data così lampo l'offerta c'è stata ragazzi io finché non ho queste ufficialità questa offerta ufficiale io non dico niente quando ce l'ho le dico e le metto qua ok buona giornata ragazzi e a presto 7decoppe da ieri ciao forza e ben ritrovati ragazzi ancora una volta nel canale del vostro amico 7decoppe e da ieri un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo se non sei iscritto al canale di video iscrivervi al canale a canale a canale pollicione in alto e partiamo subito il video su a war ragazzi il 27 di giugno la roma ci ha provato in quel periodo la aveva offerto 15 milioni a war ancora mi mancava un anno dalla scadenza ma ce l'ha in lista da quella data per chi mi segue da quel periodo ragazzi almeno un annetto fa ecco vi davo sempre gli aggiornamenti e oggi doppio video questo è sul calcio mercato state sintonizzati allora ragazzi per a war cosa è stato offerto per a war a war ha fatto le visite mediche preliminari non sono quelle ufficiali visite mediche preliminari giocatore andrà in scadenza giugno 2023 quindi arriverà alla roma parametro zero l'altra volta nel video avevo fatto l'aggiornamento dicendovi che in pratica sarebbe arrivato al 99.9 per cento oggi ci sono state ancora altre conferme i primi approcci della roma su a war risalgono al 27 giugno quando mi era arrivata a me la comunicazione dalla fuente la fuente la fuente la fuente che me l'aveva fatto sapere e la roma aveva offerto 15 milioni però non c'erano i presupposti per intavolare una trattativa in quanto la roma ha detto chi ce lo fa a noi di spendere chi ce lo fa fare a noi di spendere 15 milioni se il giocatore il prossimo anno andrà in scadenza quindi alla fine il lione stava tirando anche alto con le cifre con le somme da 15 stava cercando di portarlo a 20 e poi saranno entromesse anche altre squadre tra cui il real betis quest'estate era un passo dal real betis e poi alla fine non si è fatto più niente perché real betis aveva una situazione un po difficile col financial fair play poi c'era anche il milan in napoli si poteva entromettere però oggi sono arrivate queste ufficialità quindi manca ancora sempre la firma ragazzi la firma arriverà a settimana io penso quando finirà la stagione arriveranno le firme per l'annata successiva quello che voglio dirvi è che arrivo di a war l'innesto di a war non va a risolvere la situazione con murino questo ci tenevo a dirvelo ragazzi perché ovviamente murino chiede tre top e a war non fa parte di questa cosa qua ragazzi delle richieste di murino è buono un buon punto di partenza è quello che serve alla roma ma si deve fare altro altro e ancora altro murino chiede tre top a war è uno di questi è il quarto ne mancano tre ragazzi ne mancano tre vedremo se la roma riuscirà ad accontentare murino sono stati contattati anche altri giocatori l'altra volta vi ho detto per indicca si parla di un'offerta di due milioni e mezzo di base più i bonus vedremo ancora dobbiamo aspettare quello che risponderà il giocatore per quanto riguarda firmino è stato fatta un'offerta di due più uno ma si muoverà solamente con la champions in tasca e anche qua il video ve l'ho fatto e dobbiamo aspettare la partita contro i bayern repercusen è ovviamente una ipotetica finale di europa league che ci permetterà di lanciarci in champions il prossimo anno vedremo quello che succederà ragazzi è tutto in divenire ma quale cifra arriverà a war arriverà con un quinquennale firmerà cinque anni con la roma fino al duemila e ventotto su una base di due milioni e otto quindi cinque anni due milioni e otto di base più i bonus con i bonus dovrebbe raggiungere intorno ai tre milioni e mezzo sfiorerà quelle cifre là è uno stipendio non da top ma diciamo da semi top mettiamola così ragazzi non voglio esagerare ma non è questa la mossa che convince murino a restare dobbiamo fare di più ve lo ripeto sempre ve lo ripeto sempre e vedremo cosa accadrà ragazzi io sono fiducioso devo dirvi la verità dobbiamo aspettare la fine della stagione anche perché ci sono innumerevoli situazioni tra cui i rinnovi di contratto di smalling che ancora non è stato ufficializzato la situazione di dibala bisogna togliervi la clausola dobbiamo ufficializzare anche cristante che è stato annunciato sì dai giornalisti e insomma l'annuncio c'è stato però non c'è ancora la firma dobbiamo aspettare per ora quelli sicuri di restare sono con bulla che ha un ginocchio andato anzi oggi si opererà pure ci sarà l'operazione a con bulla ha firmato fino al 2027 e c'è stato qua l'annuncio ufficiale quello di matici che ha raggiunto il rinnovo automatico e poi vedremo quello che succederà con gli altri per quanto riguarda le uscite non c'è nessuna offerta per nessun giocatore dobbiamo aspettare e pazientare la fine della stagione ragazzi dobbiamo aspettare veramente perché la roma può mettere pure tutti sul mercato ma finché non riceverà offerte ufficiali non si può dire che il giocatore uscirà aspettiamo e vediamo perché molti mi hanno chiesto i bagni e sebram io vi ho detto ci sono squadre interessate ma serve aspettare perché finché non fanno offerte ufficiali impossibile dire si uscirà 20 25 30 quello che sarà ragazzi bisogna aspettare e vedere per ebram ve l'ho spiegato ve l'ho detto aspettiamo quello che fa il celsi anche qui ha una recompera da 80 milioni non ho detto che il celsi andrà a far scattare questa recompera ma la roma sta pregando affinché il celsi lo faccia magari succederà magari non succederà se non dovesse succedere si passa al piano b quindi bisogna essere pazienti anche con i rinnovi e con le uscite un altro nome che è stato fatto oggi e questo ve lo vado a dire pure io ragazzi è di mason greenwood esterno destro d'attacco del manchester united 21 anni il giocatore in uscita dal manchester united ed è stato proposto alla roma l'ha lanciato murino quando stava al manchester united faceva parte delle giovanili poi ha avuto dei problemi legali qualche mese fa ragazzi è stato accusato di stupro non ha un buon comportamento ve lo dico subito mason greenwood prende 6 milioni di stipendio annuali è stato proposto alla roma magari potrebbe arrivare in prestito e c'è anche la juventus mi fanno sapere che c'è la juventus che un po più in avanti anche perché questo giocatore l'aveva già puntato tempo fa però finché te li propongono i giocatori magari in prestito ecco potrebbero pagare anche loro la metà dello stipendio magari se prende 6 milioni si suddivide 3 e 3 proprio esattamente come è successo con wainaldum greenwood ragazzi alla roma farebbe bene in quella parte del campo non abbiamo il sostituto di zagnolo avuar non è il sostituto di zagnolo rimaniamo e restiamo sempre con il buco perché zagnolo non è stato sostituito vi ricordo che il mercato appena aprirà dobbiamo decidere bisogna vedere anche cosa farà murino se resterà o non resterà ci sarà sempre questa questo incontro si dice che ci sarà questo incontro con i fredkin io lo spero ragazzi che ci sarà però i fredkin stanno aspettando la fine della stagione anche per vedere il punto della situazione che traguardi abbiamo raggiunti che abbiamo raggiunto che tipo di mercato si potrebbe imbastire per la prossima stagione e poi bisogna vedere anche la situazione dei rinnovi contrattuali pinto rimarrà alla roma fino al 2024 questo ve lo posso dire gli hanno affiancato vicino l'ina su luco che si occuperà anche lei del mercato e questo l'abbiamo anche ribadito l'unica incognita resta murino ma murino giocatori già li ha chiesti e pinto si stava muovendo secondo una sua linea perché ha chiesto un dicca l'ha chiesto murino firmino l'ha chiesto murino vedremo quello che succede ragazzi se verrà contentato il mister ci sono anche altri giocatori che poi usciranno dopo sicuramente greenwood è un nome nuovo è stato fatto oggi in inghilterra a me risulta che è stato proposto questo ve lo dovevo dire quindi non è una fake news è un rumor ben strutturato e ben costruito diciamo non c'è niente di che la roma prenderà greenwood no però è stato proposto e la roma farà le sue valutazioni e vedremo poi cosa risponderà magari ecco la roma può rispondere sì se ce l'ho dato in prestito e pagate metà dell'ingaggio magari si potrebbe fare ma la juventus mi fanno sapere che un po più avanti tra l'altro anche la juventus si sta muovendo nonostante le situazioni legali che ha la juventus il prossimo anno non si sa se resterà in a cosa faranno se parteciperanno alle coppe bisogna anche qui aspettare quello le decisioni che prenderanno quelli della figc anche perché la wefa non può prendere nessuna decisione se prima la figc non rilascia il loro verdetto ufficiale quindi anche qui dobbiamo aspettare ma la juventus si sta muovendo ragazzi pao torres è stato contattato greenwood è stato proposto anche a loro e la juventus ha aperto le porte però la roma c'è su greenwood c'è nel senso interessa vedremo quello che succederà ragazzi è un profilo che a me piace a 21 anni da quel lato ci potrebbe fare veramente veramente comodo specialmente a queste cifre e se magari ce lo danno in prestito vedete la roma si sta muovendo su parametri zeri e prestiti per adesso perché se non si fanno uscite ed entra magari qualche soldino non possiamo andare a comprare nessuno se si parla magari di acquisti di cartellini in sé per sé con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like commentino sotto iscrizione al canale e ci vediamo alla prossima non dimenticate di attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti lasciatemi un commentino sotto fatemi sapere voi cosa ne pensate e vi auguro una buona bella e splendida domenica dal vostro amico 7d coppe e daie forza roma ciao a tutti ragazzi